e così è nato in dei panchini perché le panchine perché c'era una panchina allora all'epoca noi ci vediamo tutti quanti a l'atelier del gemello che stava alla balduina lui dipingeva noi facciamo ballotta lì e c'era sta panchina dove si andava a fumare canne la panchina che era messo il punto di incontro capito che comunque ce n'era un'altra nel quartiere del gemello ce ne sta un'altra situazione pure nel quartiere mio quindi è una cosa che è un simbolo bravo si viva tutti quanti abbiamo scelto quello come simbolo secondo me come simbolo che non è stata una cosa ragionata è venuta natura io ho sempre pensato pure che ne so che la panchina era perché te beccavi si è il ritrovo tipico di roma se ci pensi in ogni luogo c'è una panchina dove metti a sede con amici